Ciao amici, oggi ci divertiamo a costruire insieme una caglione in miniatura, vi piace? Vi ricordo che per tutti coloro che desiderassero seguire meglio la costruzione del video tutorial potete scaricare nel link che trovate sotto nella descrizione il progetto completo contenente tutte le miscole alla fine del video se vi è piaciuto mettete un bel vi piace, mi raccomando iscrivetevi al canale Sigla Settiamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.